Non è possibile che sempre sulla nostra vita si faccia la politica vergognosa e scandalosa di questo Paese. Noi diciamo no al voto segreto perché nel momento in cui sei senatore della Repubblica, sei un parlamentare, sei un personaggio pubblico e ci devi mettere la faccia, se sei un omofobo, se sei un razzista, tutti lo devono sapere. Quindi noi diciamo no al voto segreto, vogliamo capire chi affosserà la legge, chi voterà gli emendamenti. Se questa legge passa, ripeto, al ribasso, a noi non interessa. Inizieremo da oggi un presidio che terminerà solo il giorno in cui ci sarà la votazione e diciamo a tutti che noi non siamo popolo di serie B, siamo popolo di serie A come tutti gli altri.